cari amici di mille un'avventura molti iscritti stavano aspettando questo momento l'inizio di una nuova sfida che ha a che fare con il commodore non solo il commodore 64 saranno contenti tutti quelli che sono appassionati di vic 20 e di altre macchine commodore in cosa consiste questa sfida lo vedremo tra poco ma prima di tutto andiamo a mostrare quali sono i canali che parteciperanno durante questo periodo è una sfida di programmazione come quelle che abbiamo già proposto tempo fa perciò ci saranno sicuramente molti iscritti che aspettavano questo momento per mostrare le loro capacità di programmazione delle macchine commodore quali sono i canali che partecipano innanzitutto a questa sfida che proporranno durante il mese di dicembre le varie fasi ecco sono ovviamente project cd o meglio cd visto che cd non sta per cd il compad disc ecco praticamente claudio che a questo canale ha inventato lui questa sfida e andremo a vedere nel dettaglio come è scansionata durante il mese di dicembre però visto che ci avviciniamo al natale era anche giusto proporre il canale di mister inter 13 che come capite dal numero 13 non è che abbia la mia età è molto più giovane e ha questo simpatico canale dove ogni tanto pubblica le sue partite a fortnite e ad altre ad altri giochi starfield giochi che ogni tanto prova e vedete che un canale molto particolare se non siete tifosi dell'inter non importa tanto non è che si parli qui di squadre di calcio ma di videogiochi e quindi si diverte a pubblicare questi video e approfitteremo quindi del natale per far leggere alla fine della competizione alcune cose molto natalizie che avrete prodotto voi partecipanti alla sfida ma non perdiamo altro tempo andiamo subito a dire di che cosa si tratterà ecco questo video raccoglie il le famose season greetings per il commodore 64 del 1982 stavo andando un po indietro nel tempo il christmas demo che mostra tutti questi effetti particolari che ovviamente sono a tema natalizio invernale ecco la sfida avrà come tema proprio questo argomento se volete il natale se volete l'inverno i pupazzi di neve gli abeti insomma tutto quello che ha a che fare col mese di dicembre oppure anche effettivamente qualcosa di natalizio se volete proporlo anche perché ci saranno degli auguri alla fine che gli stessi partecipanti proporranno augureranno a tutti gli altri partecipanti come auguri di buon natale o di felice anno nuovo e qui vedete quanti begli effetti erano riusciti a produrre ecco andiamo un po avanti vediamo questo bell'albero di natale che come vedete con le lucine e poi la candela che così animata che illumina e ancora ovviamente non può mancare babbo natale che passa sopra i tetti e distribuisce con la sua renna vedete anche il naso rosso della renna rudolf mi pare che si così che si illumina davvero una delle demo particolari e qui pupazzo di neve e bambini che giocano ecco qui e qui la pubblicità del commodore 64 del 1900 1982 che è il perfetto regalo di natale solo 595 dollari ora che cosa si è inventato il nostro claudio ecco ci sono davanti io scusate comunque troverete il link a questo video perché lui in modo molto più ampio vi spiega la sfida come come si porterà avanti ecco noi andiamo a vedere velocemente la scansione temporale poi ci sono tutte cose divertenti che si è inventato claudio e che potete andare sicuramente a leggere adesso qui cerco di ingrandire un attimo ecco allora il bandolo della matassa ecco il bando di questo concorso è una sfida è una sfida di natale tre linee di codice dice il testo ecco che si vede ancora meglio perché vi ricordate l'ultima sfida che vi linko qui da qualche parte magari qui sotto in descrizione la trovate se ve la foste persa così andate a vedere che cosa abbiamo fatto nel corso delle settimane scorse ecco invece di essere una sola linea di codice quindi qualcosa di molto difficile da realizzare e anche effetti piuttosto limitati che risalivano agli anni 80 con le varie riviste che pubblicavano questo tipo di programmi ecco la sfida di natale sarà su tre linee di codice perciò avrete non solo tanta carattere a disposizione ma il triplo in più anche una linea per le varie inizializzazioni ma andiamo a vedere dopo appunto un anello per domarli eccetera eccetera il signore delle righe in pratica ci saranno dei premi il nostro claudio mette a disposizione dei pdf che riguardano la commodore in generale io metto a disposizione l'ultima chiave che mi è rimasta e che è stata messa in palio da giuseppe del gioco daedalus vi linko il gioco anche qui sotto così vedete se vi interessa una chiave steam di un gioco quindi premi insomma abbastanza limitati ma il vero premio è riuscire a partecipare e a fornire un proprio programma con i propri auguri di natale infatti sarà una sfida di natale per tutte le macchine commodore anche questa è la novità di questa sfida dal c 128 fino al vic 20 passando per il commodore 64 ecco vedete ci sono tutte queste possibilità scegliete il computer che preferite e noi abbiamo emulatori di tutti questi computer almeno spero perché devo ancora controllare però il vic 20 c 128 commodore 64 sicuramente è anche il plus 4 comunque per la vostra macchina create un programmino di tre linee ecco se volete usare della grafica è possibile usare le routine grafiche di danilo toma quindi queste in più rispetto alle tre righe le tre righe o meglio le tre linee perché in totale sono come sapete almeno sul commodore 64 sono sei righe totali per avere tre linee di codice che può essere abbreviato oppure no ecco rispetto alla scorsa sfida dovete inviare i programmi col sorgente basic punto bas e anche già il punto prg quindi già il programma che l'emulatore può eseguire perché non possiamo metterci lì siamo molto presi in questo mese speriamo di rispettare le scadenze che adesso vedrete però siamo molto presi non possiamo metterci noi a scrivere il vostro codice quindi il basic ci vuole per vedere se siete rimasti nelle righe correttamente ma ci vuole anche il prg già pronto così evitiamo anche tutti i problemi con i vari caratteri difficili da scrivere di pet ski che l'aschi non utilizza quindi se utilizzate tool esterni dice claudio inviare il d64 completo quindi tutto il dischetto il disco allora il listato come dovrà essere è complicata questa sfida non è così agevole ci sono delle regole da seguire ma essendo una sfida con un vincitore alla fine è bene essere molto chiari allora nella prima riga la riga 0 potete mettere inizializzazioni costanti pulizia dello schermo anche altro quindi in realtà c'è una riga in più che dovreste usare per le varie inizializzazioni delle variabili pulizia schermo tutto quello che serve per avere lo schermo pronto per le successive tre linee di codice che potete scrivere come volete poi la riga 24 e cercate di essere precisi perché non si riesce poi a capire bene bisogna editare un pasticcio nella riga 24 metterete nome cognome oppure il vostro pseudonimo e non è necessario mettere il nome cognome vero col titolo del programma e nella riga 25 ecco nome cognome non so perché adesso mi sfugge un attimo non l'avevo notato comunque ci vuole ci vuole una riga commentata rem con gli auguri per il natale per il 25 di quest'anno ovviamente quindi è importante anche che aggiungiate gli auguri se volete tra poco vediamo le regole se volete potete anche le tre righe fare una cosa semplicissima come print buon natale punto esclamativo fate così però gli auguri alla fine nella riga 25 ci vogliono e il canale di mister inter 13 sarà quello deputato il giorno di natale per presentare tutti gli auguri che i partecipanti avranno proposto speriamo bene per il nostro futuro quindi gli auguri assolutamente questo quest'anno sono particolarmente sentiti e sbizzarritevi auguri di natale e per il felice prossimo anno che come al solito si spera sempre sia migliore del precedente ma non sempre così allora vediamo le regole velocemente allora in linea zero cancellazione schermo costanti qui ci sono degli esempi sul video di claudio ovviamente il programma dovrà riguardare il natale l'inverno quello che volete voi insomma quello che riguarda il mese di dicembre verso le feste un solo programma potete inviare e un solo voto quando ci sarà la fase di partecipazione e di giudizio quindi non tre programmi come nella sfida precedente i numeri cominciano ad essere una cinquantina di possibili partecipanti perciò sarebbero troppi tanti programmi uno solo speriamo poi che alla fine non partecipi uno solo voteranno chi manda il listato ma anche chi manda un listato banale con gli auguri il 25 dicembre lettura dei messaggi di augurio e la proclamazione del vincitore ora com'è la temporizzazione durante il mese di dicembre ecco il primo dicembre sul canale di project cd è stato letto il bandolo della matassa con la presentazione della sfida anche presentato molto simpaticamente il canale di mister inter 13 quindi lo ringraziamo tantissimo c'è anche la presentazione della competizione sempre il primo dicembre oggi che il 2 dicembre rilancio il la sfida io sul mio canale e fin qua avete tutte le indicazioni già di cosa dovete preparare per la sfida ecco avvio competizione la sfida è già iniziata non so perché dunque ecco sì stavo ragionando su come funziona tutto ora avete già la possibilità di iniziare quindi tema natalizio tre linee di codice basic qualsiasi qualsiasi macchina commodore tema natalizio invernale l'abbiamo già detto ora per inviarli avete parecchio tempo non prima dell'otto dicembre magari così non mi arrivano cose troppo presto e fino al 16 perciò appunto parecchi giorni per inviare i vostri programmi il termine ultimo è il 16 dicembre ci sarà un problema perché avrete tante idee ma ne dovete scegliere una e purtroppo qui so già per esempio mi viene in mente agpx che nell'ultima sfida aveva preparato otto programmi e già avuto l'imbarazzo della scelta per sceglierne tre è stato difficilissimo erano molto interessanti anche gli altri cinque che abbiamo presentato sul canale dovete sceglierne uno la presentazione dei lavori avverrà il 17 dicembre che è una domenica sul mio canale milleuna avventura quindi questo dove vedete il video e verranno presentati tutti i lavori anonimi quindi non saprete chi ha fatto cosa ci saranno solo i titoli dei vari programmi e non ci sarà appunto né il nome né gli auguri dovrete votare al buio perché votare al buio perché se riesco partecipo anch'io e se riesce claudio anche lui parteciperà anzi lui sicuro che partecipi se magari sapeste qual è il programma di claudio qual è il mio magari sareste portati a non votarci ovviamente magari a votarci ma anonimi quindi al buio voi voterete la bontà del vostro dei programmi che vedrete quindi uno solo ne potrete scegliere come migliore inizio delle votazioni subito dopo il video potete iniziare a votare quindi da domenica 17 per tre giorni il 21 c'è la conclusione delle votazioni perciò appunto tre giorni di tempo per dare un'occhiata insomma non è che ci vorrà tanto a scegliere quello che vi piace di più tre giorni ci pare che bastino e il 24 dicembre claudio farà un riepilogo con le linee del col codice e l'autore e finalmente il 25 dicembre che è un lunedì ed è natale io non ho controllato ma mi fido di claudio ci sarà la proclamazione del vincitore sul canale di mister inter 13 quindi è probabile se andrà tutto bene che verrà proclamato da una vocina che farà anche gli auguri di natale ed è una cosa sicuramente più simpatica di quella che possiamo fare noi o claudio io ecco quindi una cosa ha avuto una buona idea claudio per questa cosa qui molto molto natalizia allora per inviare i programmi dovete inviarli a al mio indirizzo del canale eccolo qui lo vedete support chiocciola udev punto it scadenza il 16 quindi per il momento la scadenza è quella avete due settimane praticamente quasi due settimane no due settimane intere per lavorarci e speriamo che non sia non la troviate una sfida troppo difficile se però volete assolutamente votare non c'è granché da fare dovete mandare gli auguri e se riuscite appunto nel programmino basic mandate anche voi un programma basic anche se non avete intenzione di fare chissà che cosa però tutti devono mandare il programma o gli auguri bene direi che abbiamo detto tutto i canali coinvolti quindi lo ribadiamo il canale di claudio il mio canale il canale di mister inter 13 che ci augurerà buon natale il 25 e anche buon anno probabilmente perché ci saranno tanti auguri anche per un felice 2024 e speriamo bene ecco questo è ciò che claudio si è inventato davvero una cosa molto elaborata e lo ringraziamo eccolo qui sopra per tutte le idee e anche le collaborazioni che propone che fanno crescere i nostri canali ovviamente ma ci permettono anche di proporre delle sfide che per gli amanti del commodore 64 sono una cosa che fa sempre piacere e poi così a tema natalizio ancora di più quindi commodore christmas challenge ccc ecco è saltata fuori questa cosa sul mio canale mentre altra cosa molto più legata al signore degli anelli sul canale di claudio però perché questa cosa perché ovviamente chi vince poi dovrà commentare sotto al video e augurare a tutti quelli che hanno partecipato qualcosa per il nuovo anno perciò chi vince in realtà vince anche qualcosa di abbastanza così gradito spero però avrà anche l'onere di augurare a tutti qualcosa di bello per il prossimo anno ecco questo la commodore christmas challenge così siamo davvero lanciati e qui sotto nei commenti mi raccomando scrivete se avete intenzione di partecipare se avete già delle idee tutto quello che vi viene in mente qui sotto nei commenti magari se volete conoscete qualcuno che non segue il canale magari spargete anche un po la voce così avremo ancora più programmi cercate di essere ovviamente originali ci sono già tanti programmi di questo tipo che girano e ovviamente verrà apprezzata l'originalità del del lavoro da parte di chi partecipa a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione per gli auguri aspetteremo mister inter 13 alla fine di dicembre perché adesso siamo effettivamente un po presto siamo solo al 2 dicembre buon proseguimento ciao a tutti e partecipate numerosi bye bye ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.